Allontanarsi dalla linea Giampa, ferma la volute centrale, direi di Santa Maria Novella, Roma e Cusina. La prima classe è in segnità a treno, su questo treno è l'ultimo di servizio di ristorazione. Per assegurare l'accesso a treno, stiamo a viaggiatori ed i porti lungo spazio a piedi in base alla posizione della carrossa indicata dai mochi, con il senso prima di salire, l'attività dei viaggiatori in attività. Grazie a tutti.